Per avere un'assegnazione del mezzo, cioè guarda caso, noi stiamo qua in amministrazione da giugno l'anno scorso, prima di noi ci stavate voi, cioè stavamo insieme, non è che ci stavate voi, stavamo cominciando il dialogo, stavamo insieme, stavamo insieme, quando c'è la lista a me, in qualche parte lo fa, quindi è peccato 10 anni, ma lasciamo perdere. Nel 2014 al tuo sito, il nostro sito, fu consegnato una lettera da parte della cittadina, e mandatale che ci dì, il 2014 maggio, 26 maggio 2014, non parlate? Ma la parola, non lo so, 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 non lo so Ho capito che ci entrava, non lo so, 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 non lo so.